Il legame tra un padre e un figlio è uno dei tesori più preziosi che la vita ci offre. Un rapporto intimo, potente e profondo, che può sfidare il tempo e superare le sfide più grandi. Nella mitologia del mondo dei videogiochi esiste una storia che incarna l'essenza di questo legame sacro, una storia di coraggio, redenzione e amore. Il rapporto fra Kratos ed Atreus in God of War. Kratos, una volta noto come il fantasma di Sparta, era un guerriero feroce, temuto e rispettato dagli dèi stessi. Ma dietro la sua maschera di forza si nascondeva un uomo tormentato, segnato da un passato doloroso. La morte della sua famiglia pesava come un macigno sul suo cuore, un peso che avrebbe portato con sé per l'eternità. Ma la vita riserva sempre sorprese e in un mondo in cui gli dèi camminano tra gli uomini, il destino di Kratos lo ha portato a diventare il padre di un figlio, Atreus. Atreus è un giovane ragazzo dal cuore puro e dalla natura curiosa. È l'incarnazione della speranza e dell'innocenza in un mondo corrotto dalla guerra e dalla violenza. Nonostante il sangue divino scorra nelle sue vene, Atreus è legato a Kratos da qualcosa di più forte, un amore profondo e incondizionato. Padre e figlio si imbarcano in un viaggio epico per disperdere le ceneri della madre di Atreus, cuore aperto di Kratos, una missione che li condurrà attraverso terre sconosciute, creature mitiche e dèi arrabbiati. Ma non è solo l'azione o l'avventura che definisce il loro viaggio. È il modo in cui si guardano, la comunicazione silenziosa tra i loro sguardi, che trasmette un amore indistruttibile. Kratos è un padre spietato, si apre gradualmente al legame con suo figlio, insegnandogli il valore della forza e della resilienza, ma anche il significato dell'umanità e della compassione. Atreus, a sua volta, guarda al padre con ammirazione e rispetto, desiderando di guadagnarsi il suo amore e dimostrare il suo valore al padre. I momenti di tenerezza si alternano alle sfide più difficili che i due devono affrontare insieme, e in quei momenti, quando il pericolo è imminente e il destino sembra in bilico, l'amore di un padre per suo figlio brilla come una fiamma che non può essere spenta. Kratos, che ha imparato dai tutti i suoi errori passati, si sacrificherebbe per proteggere Atreus, per garantire un futuro migliore per lui. E Atreus, il cui coraggio e saggezza superano di gran lunga la sua giovane età, non si arrende mai, rafforzato dalla fiducia nel suo potente genitore. Insieme, padre e figlio diventano una forza inarrestabile, superando le avversità, lottando contro dei immensi e facendo i conti con il passato. Ma la loro vittoria, la loro vera vittoria, risiede nel profondo legame che hanno costruito nel corso del loro viaggio. Kratos ha imparato a perdonarsi e ad accettare il suo ruolo di padre, mentre Atreus ha scoperto la sua eredità divina e il potere dell'amore. God of War ci ricorda che il rapporto padre-figlio può essere un'odissea in sé, una sfida costante e un'opportunità di crescita e cambiamento. È un richiamo alle responsabilità che derivano dall'essere genitori, ma anche un inno alla bellezza e alla potenza dell'amore familiare. Kratos ed Atreus sono diventati icone dei videogiochi, ma la loro storia è universale e tocca il cuore di chiunque, rivelando il potenziale che risiede nel rapporto tra un padre e un figlio.